Perchè viene una cosa del genere, ok? Perchè? Che cos'è sta cosa? Non lo sappiamo io Ok È risolto Andrea, guarda Ma che bravo, seba non si avvicinato bene Non devi mandare al f***o meno, non è che ti mostrano adesso Bella mia, anche tu sei scoliosis Non so cosa sia scoglio sessuale, però credo di sì Allora Devo attaccare il joypad? Eh? Vabbè, che bimbo Dovrei leggerlo perché non ci stocca più un cazzo al momento Ok, seba Ma guarda che mi informa, ho fatto una foto sul coso Oh Andrea, ci stai? Tagli un po' Giocare Gioco rapido Gioca online 2v2 doppio Via Con sta macchina è detta merda C'è stai? Andrea Senti, non mi chiedere più Andrea Mi ricordi mia madre quando mi svegliava per andare a scuola Perché non ti stai muovendo? Andrea Ah perché ho attaccato il coso all'altro computer Il coso? Ho attaccato l'USB al computer che non uso più Ah è attaccato il pad al computer che non stai usando? Sì D'accordo Vai Andrea Come si doveva? Vai Andrea Eh? Viente Vai Andrea Vai Andrea Vai Andrea Sì Bravo Sì Sì No, questo è quello che abbiamo preso Buonissimo Ok È sbagliato, è super sbagliato Andrea Andrea Vai a scuola Oh è no Il silenzio assoluto Beh poi c'è pure chi può attivare per la squadra avversaria Grazie Luca Vai Andrea Vai Andrea Vai Andrea Oh, oh Ho sbagliato Vai Andrea Oh Poggers Oh 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 Poggers Poggers Vai Oh Vai Vai Andrea Poggers Poggers Vai Andrea Vai Andrea Quasi Vai vai Passa dal centro Vai Andrea Tu e tu e tu Andrea Andrea Passa dal centro Vai Andrea Vai Andrea No, l'elettromarcia non è mai giusto Ma come non è mai giusto? Vai vai al centro Al centro Al centro Al centro Al centro è sua Amica È nostro Vai Andrea Vai vai Poggers Poggers It's time to shine It's time to shine Ok mi ricordo qualcosa It's time to shine Vai Andrea It's time to shine It's time to shine It's time to shine baby It's time to shine Ok Come si cambia Vai Andrea Vai Andrea Ah Andrea Questo è il gol Ahi 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 Ma va bene Va bene così Wow Ma in realtà Anche normalmente Mi ricordo è successo Tu non è mai giusto Mi ricordo Il furo è più bello È il tempo Il furo è il furo È il furo è il furo Ma in realtà Non sono un furo Oltre è il furo che fai? non ho capito niente Frank ma lei è vero via vai vai Simone vai Simone vai Simone è tempo di risorgere vai Simone vai Simone vai Simone tutto da solo è un po' difficile vai Simone vai Andrea vai Andrea come in i modifichi vai Simone vai Andrea vai Andrea cerco di non metterla centrale davanti a loro vai Andrea vai Andrea vai piccolo ma posso camminare sui muri sì piccolo vai 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 piccolo ora la prendo sul personale vai Simone vai piccolo ci hanno segnato no Andrea sì Andrea sì dai 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 vai Andrea vai Simone vai Andrea no vai Simone vai Simone vai piccolo è tua piccolo ma dove stai vai Andrea cos'era sto verso mi penso di aver fatto gol vai piccolo vai piccolo ok intanto non posso uscire vai vai Simone vai Andrea vai Andrea vai guarda quante occasioni piccolo vai piccolo non è turbo no piccolo ma dove si è lanciato ma vai a cagare tu alla prossima metto il joypad grazie grazie Luca grazie lunatic cocco però aspetta così non valeva allora ti devi spiegare una cosa che tasti si usano col joypad ma non è più facile che tasti si usano col joystick ma come hai giocato fino adesso scusiamo con mouse e tastiera perché ma che 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 attestesi usano che cazzo ne sono io l'ho cambiato vai su un po' stanzioni guardare penso che con A è turbo o no si salta easy ragazzi easy clap ho perso ho pure sbloccato il livello vergogna per me omunculus dai metti ready prendi mano il cazzo joystick attacca lo dal primo ok se mi muterò un secondo eh mi muterò un po' stanzioni ok se mi muterò un po' stanzioni attacca lo dal primo